Musica Siamo in un vivaio che colora Piazzetta Carducci, qui ad Artigianato l'Eccellenza. Sì, noi siamo i vivaio Tarantino, siamo a Cavallino, quindi in provincia di Lecce. È il primo anno che partecipiamo a questa manifestazione, siamo onorati di aver partecipato ad Artigianato d'Eccellenza e abbiamo portato qui le rose barni che come di consueto hanno adornato appunto questa piazza in occasione di questa manifestazione, delle aromatiche, malva rosa e poi tante altre piante mediterranee come limoni dalla Sicilia, lavande, bougainville, eccetera. Io vengo da Roma e ho portato qui queste sedie in ferro con farfalle, fiori molto in tema con la stagione e poi ho portato quei vestiti che sono là dietro, sempre molto colorati, molto solari, come richiede l'estate. I tessuti sono indiani, però l'azienda italiana da Milano viene esposa ogni anno, anche se mi dispiace dovrebbe farlo anche più di un anno le riprese. E questo carretto è molto divertente, diciamo fantasiosi, allegro. Vengo da Milano e ho portato un po' della mia produzione di piatti di vetro con applicate delle stampe antiche, collane come questa che indosso con cristalli dei lampadari e con immagini a scelta del cliente. Porto le mie cravate, che fanno parte del mio lavoro e dell'artigianato che io cerco comunque di far vedere al mondo, dato che è difficile trovare artigiani che lavorano con una certa cura e pazienza, e spero di essere apprezzata per quello che faccio. Le produciamo in collaborazione con famiglie friuliane, assolutamente solo in Friuli, e poi però abbiamo il nostro punto vendita che è a Venezia, vicino al Ponte di Rialto. Ci hanno invitato già dall'altro anno e quest'anno abbiamo ceduto all'invito e siamo venuti a presentare il nostro prodotto qua, che comunque vedo che già molti conoscono e viene apprezzato e ci fa piacere. È una piccola azienda che è nata tre o quattro anni fa e tutto fatto in Italia a mano e disegnato da me. Usiamo camoscio, nappa, tutto tipo di materiali, estivo anche raffia, spero con un disegno molto unico. Noi siamo di Firenze, però di origine di Istanbul, e esponiamo dei gioielli veri, artigianali, di diamanti, di due classi, uno alta gioielleria e uno più accessibile. E abbiamo organizzato anche questa piccola raccolta di vari oggetti artigianali, ispirati da modelli comunque antichi e bizantini di Istanbul, per questo mercatino di beneficenza. Sindaco, visita anche lei la mostra mercato artigianato all'eccellenza qui a San Francesco della Scarpa in un weekend fitto di appuntamenti. Siamo contenti, questa è Lecce, è Lecce effervescente, frizzante, piena di tante iniziative, e soprattutto piena di tantissimi turisti, io sono veramente molto soddisfatto. La location è stupenda, devo dire che ci sono anche dei prodotti molto interessanti, poi anche lo sfondo di carattere solidaristico della manifestazione. È una cosa che ci riempie d'orgoglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.